611 barra euro barra chiocciola barra chiocciola barra euro barra euro 8 9 1 9 2 e barra un'arma in mano eh stai andando vai vai zumba zumba sarta sarta è sicuro? sarta sarta va una brutta fine vai 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 sarta sarta porco dio porca madonna del dio ma porca percadio 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 ho detto santo ho detto io ma che mi alza da qua e la fai? e non ce la faccio dio non do pesi grazie grazie vai qua let's go ok oh salutai ma ci passa si si ci passa ci fanno l'oletto ci fanno secondo me sai che dovresti fare? dovresti andare a fare gare di powerlifting senti il tuo sistema l'oletto che vado in bagno adesso va e a e a a a a Grazie. 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 Guarda. Ci sono? sicuro caldo quando dormito ieri 10 ore andiamo a giocare way out andiamo